Bella raga, siamo qui sul canale di Pompelmo, mi raccomando siamo in diretta Twitch, quindi se mi vedete parlare con qualcuno non sono impazzito, bensì sto parlando con i ragazzi di la chat, in questo caso Canatic Pro e andiamo a vedere i posti più interessanti della nuova, il capitolo 2 Allora, da quello che ho visto i posti più interessanti sono, Swede Island o questa zona che vedete qua, Swede Island e tutta la zona qua in alto della laguna perché Swede Island c'è un botto di roba e intorno qua nel castello di solito ci sono degli scrini preziosi, qua è carino come zona tra l'altro nelle isole lì in alto ci sono dei paesini di pescatori, di non so che roba, di aborigeni, comunque molto carini nell'atollo e da qui vi muovete facilmente perché prendete una barca e venite subito nella... riuscite a muovervi comunque con le barche molto bene poi, un posto carino, c'è anche Slurp e Suon, la fabbrica di Slurp, qua vi fullate di shield e quant'altro intanto io, il mio personaggio, qua al cinema sinceramente non ci sono ancora mai venuto, eh noi dirigiamo giù, su Ampistore, vediamo di arrivarci poi allora abbiamo detto, la fabbrica di Slurp è molto molto bella perché vi fullate di shield e quant'altro al centro tra Olislurp e Foreste, sì beh, poi qui c'è un botto di legna, c'è un botto di barche e quant'altro molto carina come zona poi c'è bella anche, vabbè, FranziFan dove vi fullate, qua ci vengono veramente un casino di team ma non è difficile fightare, ci riesce a fightare abbastanza bene abbiamo le fabbriche qua in alto a nord che sono molto di, molto piene di luogo, molto piene anche qua di materiale e dentro le ciminiere della centrale ci sono delle casettine con delle armi epiche solitamente e poi tra la centrale Dirty Docks c'è, Dirty Docks anche questo è un bel paesino, secondo me è meglio che a Retail ci sono delle funivie che ti consentono intanto mettiamo il segnalino lì vediamo questo ostacolo qua e andiamo immagina, speranze che non mi muore il personaggio qua c'è il tralizzo elettrico che va dalle centrali elettriche a Dirty Docks e in qualche minuto riuscite ad arrivare a spostarvi da un posto all'altro facilmente prendendo anche del loot, quindi qui è molto 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 bello si riesce a spostare bene se volete un posto tranquillo invece dove arrivare c'è qua sotto a sud vedete che vi sto indicando c'è un isoletto qua che è abbastanza tranquilla come zona di loot per iniziare la partita ci va poca gente solitamente ma anche qui avete la barca e riuscite a muovervi per la mappa e dove c'è un discreto loot e comunque riuscite a fare un inizio tranquillo poi ovvio se cercate allora, rigenerati e fai prima ah ok va bene, se rigenerati e fai prima non sarebbe male devo anche suicidarmi altri posti ti inserisco, rispondo facciamo un rispondo, vediamo vediamo se mi rispondo ho perso in math oh guardate, neanche farlo apposta vedete, siamo qui a Sweetie Island allora, questa è tipo una sottospecie di Los Angeles Sweetie Island Sweetie Island che vedete qua il parco, siamo un centro gelatico dentro si trova un buon loot ci sono lì le pozze, i punti di pesca sinceramente pescare non piace però qua qualcosa di buono lo tirate sempre su qua dentro c'è loot e poi vabbè avete una città intera dove dove luttare io lo paragonerei un po' un po' a come si chiama? a Borgo Allegro al Borgo Allegro della vecchia mappa lì in fondo avete il di sopra c'è il castello e lì avete il faro che vabbè il faro non c'è tantissimo però qua c'è il paesazzino se vedete là in fondo c'è il paesello di i pesciolini e comunque si sta bene adesso mi chiedono di andare anche in un posto e ci andiamo c'è un altro respawn e andiamo allora tra al centro tra Oli e Slurp e le foreste andiamo a vedere questo posto qui tra Oli e Slurp e le foreste ci arriviamo Oli e Slurp e le foreste qua ok iniziamo intanto andiamo pilota automatico inserito e beh poi comunque se volete fightare iniziare bene il game vabbè ci sono il solito parco pacifico Solti Sprig Frenzy Fan dove si fa molto mi fighta molto molto bene prima abbiamo fatto 20 bombe abbastanza facile e sto andando e stiamo andando lì qua il centro proprio qua poi ci va anche tantissima gente che ho visto tra rete di oro nelle città comunque forse quella dove ci va di più gente è Slurp perché veramente c'è un botto c'è un botto di loot ci si carica di shield e se finisce qua la save comunque abbastanza sì c'è sicuro ma diciamo che diventa abbastanza rognoso ecco però si fa abbastanza bene avanti Oli avanti Oli ah qua qua dove ho messo il puntino fanatic andiamo a vedere il punto che ci hanno consigliato in chat un metro che buon vecchio hamburger e pomodoro mamma mia maledetti è uscito un video con i pomodori prima della nuova season allora si trova le armi epiche non solo un miraggio io comunque ragazzi non lo so scrivetelo voi in chat le armi epiche le trovate leggendale pochissime penso che si trovino nella quasi totalità dei casi solo farmandole allora andiamo a vedere questo posto che ci hanno consigliato qua dalla chat la zoo glam posto non segnato sulla mappa la mariana quanti bancari ci sono qua hanno detto che c'era molto loot e ci sono molto loot poi i bancali a me quelli vecchi gialli piacevano da dio me lo stile grafico di fortnite 1 piaceva veramente un botto vabbè adesso siamo in modalità parco giochi e mi sono fullato praticamente con tre bancari ma qui penso che ci sia l'imbarazzo della scelta questa è una fabbrica di bancari è come il cinema il cinema ti fulli di di e l'amato ma questo qui è una fabbrica di bancari la chat aveva ragione i fanatic oddio questo parte non la posso non la posso vedere questa parte questa cioè ragazzi io so tutto il giorno in mezzo a queste macchine e non ce la faccio no? non ce la faccio sto andando sui torni poi è fatto malissimo questo tornio qua cioè il tornio qua è fatto malissimo perché ma cioè la punta la contropunta va bene il mandrino c'è ci sta tutto e che qua dove c'è l'utensile si vede che le epic non hanno mai visto un tornio eh già si vede perché un tornio qua dovrebbe avere qualcos'altro va bene la punta queste sono le frese le mie macchine questi trappani a colonna e come stare in fabbrica vai bellissimo comunque niente quasi si full veramente di legna e questo qua sento un rumorino che conosce ancora poca gente oh attenzione un'arma leggendare attenzione figa incredibile sto posto qua lutta go go ancora bancari i bancari poi ti danno un botto legna grezza niente abbiamo scoperto un nuovo posto e allora io per per cose intanto vedrai nuove le spoglie di fortnite fantastici prima erano mini nido e così non ci stavi dentro la macchia è bellissimo per iniziare va benissimo e andiamoci a vedere volevo vedere anche il cinema per concludere il cerchio vediamo se ci arriva il cinema dovrebbe essere qua da queste parti qua andiamo a vedere il cinema e basta tantissimo tantissimo mettiamo un respond veloce vediamo se ci fa avvicinare andiamo a vedere c'è un altro film bellissimo bello come posto e deve essere anche abbastanza tranquillo perché caro e spazio un gay si si no vabbè ma quando ci sono quegli quando ci sono quegli quegli scrigni viola e pc trovo sempre qualcosa di molto buono un posto molto buono che anche secondo me è molto buono è questo qua il cinema qua vediamo un po' sui loot qua sopra ci sono delle casse qua avete un botto di ferro tante macchine anche il cinema queste qui sono le postazioni ecco su questo in forno ne ha lavorato molto bene perché cioè non è tutto concentrato la gente si sta ammassando nei posti più conosciuti ma ci sono anche un altro un sacco di altri posticini dove si luta molto molto bene interessante per iniziare e ancora sono poco conosciuti e si riesce a vedere una partita niente oh mi capitasse mai in game niente detto questo noi ci vediamo al prossimo video wow alla prossima yeah yeah Ciao